Adorate ascoltare la musica in modo immersivo, senza rumori esterni, ma non amate indossare delle cuffie pesanti e poco maneggevoli? Io ho la soluzione perfetta per voi e ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. In questo momento sto indossando delle cuffie Bluetooth. Si lo so, non si vedono ma sono nascoste in questo modo. Si chiamano WF-1000X e sono degli auricolari in-ear prodotti da Sony. A caratterizzarli però non sono solo le dimensioni super compatte e il peso contenuto. Queste cuffie infatti sono dotate della più avanzata tecnologia di eliminazione digitale del rumore. Ciò significa che sono in grado di cancellare quasi totalmente i rumori esterni, permettendo di focalizzarvi sulla musica che state ascoltando. Attenzione però, questo non significa che non sentirete proprio nulla. Le cuffie sfruttano infatti una speciale tecnologia e diversi sensori per capire se siete in movimento, seduti o persino in aereo. In questo modo gli auricolari saranno in grado di isolarvi in modo personalizzabile dall'ambiente esterno. Eviterete così di perdere informazioni importanti come il suono di un clacson o un avviso in aeroporto. Questa funzione può essere gestita totalmente dall'applicazione Sony Headphones Connect, disponibile per iOS e Android. Sony però non si è concentrata solo sulla tecnologia presente all'interno di questi auricolari. Il design minimale e la presenza di cuscinetti di diverse dimensioni li rendono adatti a chiunque ma soprattutto comodi da indossare. L'assenza di cavi poi vi permette di avere le mani libere in qualsiasi momento, sia che stiate correndo, viaggiando in aereo o parlando al telefono. Ma come si ricaricano? Semplice. All'interno della confezione trovate una comoda custodia che non serve solo a trasportarle quando non le state utilizzando. Questa piccola scatola infatti funziona anche come base di ricarica e garantisce un'autonomia di circa 9 ore. Una volta esaurita la batteria vi basterà collegare la custodia a una qualsiasi porta USB per ricaricarla. Utilizzarla è davvero intuitivo, una volta estratte dalla custodia si accendono in modo automatico e si collegano al vostro smartphone grazie al Bluetooth. Sony WF-1000X sono disponibile in due diverse colorazioni, nero e oro. Direi che anche per oggi è tutto, mi raccomando ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!